Ciao piccoli scarafaggi, poggigi, poggigi Maggia la pignotta Vi voglio fare un video diverso dal solito che fanno tutti, ma io non l'ho mai fatto perché mai nessuno mi aveva regalato un cazzo Ho il mio primo sintetizzatore nuovo Anche 6 milioni di euro nel culo glieli voglio dare Regalato, regalato da un donatore che vuole rimanere anonimo Non gli do una lira, va bene Non potete capire come sono contento io lo ringrazio tanto Ora capisco la gioia che provano gli altri quando ricevono la gioia che provano gli altri quando ricevono un regalo è una cosa fantastica non vedo l'ora di scartarlo e quello che voglio fare è fare un unboxing che cazzo di gusto c'è a vedere uno che scarta una cosa che tu vorresti e che comunque non hai o comunque a vedere una cosa che si scarta qual è il senso? Questi cazzi però visto che questo è un regalo lo voglio condividere con voi che dirvi? ci proviamo? se mi volete regalare qualche cosa sono qui di cocazzo scarterò anche i vostri regali ciao ragazzi buon divertimento a tutti ovunque voi siate e ci vediamo al prossimo video grande vabbè cominciamo ciao ragazzi mi sono accorto che non stavo parlando forse perché era l'emozione vabbè l'ho scartato un po' come vedete qui c'era un po' di gomma intorno per proteggerlo qui ci darà sicuramente l'alimentatore nemmeno un po' perfetto che gusto c'avete a guardare questo cazzo di video che scartano forse è che ti fa sentire un po' parte come se fosse il tuo beh in effetti si è così fa una sudata non vi rendete manco conto via volevo essere delicato ma non c'è delicatezza certe volte pesantino eh però comporta male sono riuscito a non romperlo wow bellissimo è di legno ecco perché pesa questo è il cazzo che non riesco a levarlo c'è questo sotto che penso serva a non far schiacciare i tasti carinissimo comunque è bello che cazzo ci faccio adesso in teoria questo si alza vediamo un po' wow mamma mia fighissimo andiamo un po' se si vede dietro si questo si tira su e si poggia andiamo un po' mamma mia che bello ragazzi wow ciao 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 Sto a zuppo, sto proprio a sudà, grondo, mamma mia, tra le emozioni Io dopo l'unboxing vi farei anche vedere come funziona l'accensione e tutto quanto Ma siccome non conosco come funziona un sintetizzatore e quindi devo un po' prenderci confidenza Una cosa utile che posso farvi sotto in descrizione è mettervi i link più interessanti che ho trovato In modo che non dovete affaticarvi ad andare a cercare chissà dove, li trovate tutti qui Coglioni sto telefono, vi potete guardare i video con un po' brillami sempre quando andiamo a apure E dicevo, in modo che guardare questi link commesso qui sotto che sono già una ricerca dei video migliori Che riguardano questo sintetizzatore Per la gioia di mio cugino Marco Ciao Dici ma che stai a sudà? Beh niente Dici ma che stai a sudà? Dici ma che stai a sudà? Dici ma che stai a sudà? Dici ma che stai a sudà?